buona giornata amici da massimo foghetti benvenuti alla rassegna stampa di fano tv oggi è sabato 12 febbraio 2022 il sole sorge questa mattina alle 7 e 10 e tramonterà alle 17 e 34 vediamo subito qual è il santo del giorno oggi non festeggiamo un santo solo ma addirittura un gruppo di santi sono i santi martiri di abitinia abitinia è una località dell'africa settentrionale accadde che sotto la persecuzione dell'imperatore diocleziano ai tempi dell'impero romano molti cristiani furono imprigionati e uccisi tra questi finirono a processo saturnino che era un sacerdote i suoi quattro figli e il suo gruppo di fedeli tutti furono imprigionati e morirono nelle loro celle di consunzione altri furono torturati e subirono il martirio i santi martiri di abitinia anche gli africani dunque subirono le persecuzioni perché erano cristiani anche loro ricordiamo anche sant'agostino che nacque appunto nell'africa settentrionale e questi furono imprigionati addirittura a cartagine quando cartagine fu risollevata dalle ceneri in cui l'aveva appunto ridotta la guerra tra roma e cartagine ed ora diamo un'occhiata alle previsioni del tempo e vediamo come il tempo si è rannuvolato oggi rispetto al tempo sereno dei giorni scorsi una situazione instabile sulle marche con piogge sparse e locali rovesci fin dal mattino asciutto dal pomeriggio con nuvolosità in diminuzione i venti spireranno sulle coste da est nord est e lo stesso sull'interno una forza debole sempre da est nord est le temperature si aggireranno dagli 8 a 10 gradi quindi non fa molto freddo e già anche stamattina insomma la temperatura è piuttosto mite apriamo questa mattina il corriere adriatico sulla pagina di fano vediamo subito l'apertura e vediamo che ancora l'argomento che impera è quello dell'aset acquisito da aset lo studio segreto cinque copie sono state date al consiglio d'amministrazione di aset appunto dal giornalista che le aveva rese note ovvero da lorenzo furlani e poi anche mascarin ne vuole uno mascarin gestisce la delega delle partecipate le aziende partecipate del comune di fano e ha avviato subito un'indagine insomma si vuole sapere ora che si è acquisito questo documento con cui era prefigurava l'assorbimento di aset da parte di marche multiservizi ora si vuole appurare se tra i dati ma sono solo percentuali che appaiono sul documento figurano valori che sono strati e tratti in maniera irregolare appunto da quello che rappresenta l'azienda affanese insomma una fuga di notizie che si vorrebbe capire se è venuta come è avvenuta ed eventualmente reprimere smentite le ricostruzioni di seri e del pd secondo la lega che ha attivato la conferenza la commissione di garanzia e controllo con cui appunto si è avuta notizia di questo documento mentre i dipendenti dell'azienda a loro interessa soprattutto capire come l'azienda affronterà le prossime gare per la gestione dei servizi sì la questione della fusione di ase di marche multiservizi è un dato di confronto politico ma quello che interessa ai dipendenti per il futuro dell'azienda non è altro che sapere se l'azienda poi sopravviverà con la gestione sarà in grado di vincere le gare quelle del gas quelle dell'acqua e quella dei rifiuti ed ora un altro fronte interno dopo quello dell'aset si apre nel pd nel partito democratico adesso una parte quella maggioritaria insorge contro la giunta perché ha firmato il protocollo sulla ciclovia con la regione secondo dei termini che non erano quelli che erano stati decisi dal consiglio comunale sappiamo come la maggioranza del pd insiste perché questa arteria questa infrastruttura venga realizzata nei pressi della ferrovia mentre il progetto regionale lo vede con un itinerario a zigzag tra le case i centri abitati insomma sfruttando alcune vie esistenti e realizzando dei tratti nuovi in questo caso giacomoni che è la capogruppo del gruppo consigliare del partito democratico e l'assessore tinti che fanno parte della parte maggioritaria del partito democratico contestano il patto con la regione si realizzi dicono il tracciato vicino alla ferrovia e vedremo insomma ora come verrà recepito questo invito da parte della giunta e intanto la giunta va avanti con alcune realizzazioni importanti si è iniziata la realizzazione della pista ciclabile nel parcheggio del centro tennis della trave mentre l'assessore e vice sindaco cristian fanesi evidenzia i lavori che stanno facendo nel molo di ponente del porto di fano da lunedì il cantiere attivo anche nel modo nel molo di polente del porto dove la ditta crf costruzioni di paternò che si è giudicata all'appalto per 236 mila euro mettere a mano all'intervento di riqualificazione che la regione ha finanziato con un importo di 335 mila euro sicurezza efficienza e fruibilità e anche qualità dell'immagine sono appunto gli obiettivi di questi lavori lavori che riguarderanno la sistemazione della pavimentazione della collocazione di nuovi punti luci per un solito di qualità dell'arredo destinato a concidere anche con un più confortevole utilizzo della passeggiata una passeggiata che viene usata non solo d'estate sul molo ma anche nei mesi autunnali e invernali dunque nuovi lavori sia alla trave che nel porto di fano pd lacrime di coccodrillo questo è un articolo che riguarda la sanità riporta dichiarazioni del consigliere regionale luca serfilippi serfilippi della lega il quale contesta la posizione della giunta fanese sulla situazione sanitaria e soprattutto sulle rivendicazioni che sono state fatte in merito alla sottrazione del servizio di guardia medica la sottrazione dice serfilippi è colpa del pd della passata gestione del partito democratico sugli servizi sanitari e quindi non è colpa dell'attuale maggioranza che governa la regione la quale si è fatta carico addirittura di proporre in parlamento l'utilizzo dei medici di base ora vietato per far parte della guardia medica passiamo a fossombrone nel piano opere pubbliche investimenti per 20 milioni di euro scuole edifici ambiente strade e decoro la priorità della giunta berloni ora con i nuovi le nuove risorse anche del pnrr ma anche le risorse dell'amministrazione comunale verrà realizzata la sistemazione urgente della scuola dell'infanzia di via gramsci e poi quella media di via torricelli il nuovo centro di raccolta e riuso di san martino del piano e ancora la riqualificazione del parco di villa carloni la sistemazione del palazzo comunale in corso garibaldi e poi la sistemazione del tetto della facciata della quadreria cesarini 500 mila euro verranno utilizzati anche per la sistemazione delle strade comunali un totale dunque di 20 milioni una cifra considerevole per molti lavori nella città metaurense sulla pagina di marotta vediamo invece il resoconto di un incidente una donna travolta sulle strisce si era fermata per far passare per far passare appunto una famiglia travolta sulle strisce da un'auto che tamponata l'urta l'urto sulla statale a marotta la ferita soccorsa da icaro illesa bimba e altro familiare dunque una tamponamento un tamponamento un'auto ferma che faceva passare i pedoni e finisce contro la staccionata che delimita i binari della ferrovia è stata una tragedia sfiorata quella che si è verificata nel pomeriggio di ieri poco prima delle 14 sulla statale adriatica all'altezza dell'hotel garden dove una conducente residente a falcineto che procedeva in direzione sud ha urtato una citroen condotta da una marottese che si trovava ferma nella stessa direzione di marcia prima dell'attraversamento pedonale che conduce al sottopasso verso via damiano chiesa è stato un tamponamento violento in quel momento sulla strisce sulle strisce pedonali stava transitando una famiglia con tre persone tra le quali una bambina e una donna adulta di 45 anni a essere urtata è stata quest'ultima la donna che è caduta sull'asfalto a causa dell'urto dell'impatto con la citroen quindi come fosse una catapulta la macchina spinta dal di dietro ha investito la donna che attraversava la strada sulle strisce vediamo anche la pagina di senigallia stremati da bollette pandemia la caritas c'è ridiamo dignità il caro vita campeggia ancora sui giornali lo vedremo poi anche in altri contesti stremati da bollette pandemia ci sono veramente tante persone che non riescono più arrivare alla fine del mese ricorrono gli appelli sui giornali per sanare una situazione che giorno dopo giorno diventa sempre più grave diventa sempre più degradante anche per la dignità delle persone ebbene in questo caso la caritas oltre che a dare un aiuto cerca di ridare dignità e proprio ridiamo dignità è il titolo di un sito un progetto nato insieme ad un amico della caritas giuliano de minicis che ha che ha portato avanti un sensibile aiuto alle persone in difficoltà questo sito si sta rivelando uno strumento di raccolta fondi e di aiuto veramente interessanti nell'ultimo anno ha permesso anche a chi si trova fuori del territorio di gestione dell'ambito da parte della caritas appunto di trovare un sostegno sono piccole grandi donazioni che risolvono spesso tanti tanti problemi al pronto soccorso con un solo medico a senigallia oltre a quelli che già mancano uno è risultato positivo mentre un altro ha preso un congedo parentale urgente per cui è rimasto solo un medico e il servizio rimane veramente in grave difficoltà giriamo la pagina vediamo subito pesaro anzi prima vediamo la regione vediamo la regione e vediamo che c'è una novità sul fronte sanitario sta infatti per entrare in vigore l'ultima norma anti covid da martedì prossimo gli ultra 50 anni possono accedere in fabbrica o in ufficio solo in possesso del certificato verde di avvenuta profilassi oppure guarigione del virus l'esercito dei 40.000 over 50 non vaccinati e le aziende tremano perché veramente se poi questi non si recano al lavoro le stesse aziende diventano rimangono in difficoltà e c'è anche chi fa lo sciopero della fame il green pass usato per celare la crisi ed è claudio rossetti che è referente della fisi la fisi e la federazione italiana sindacati intercategoriali che ha indetto per martedì uno sciopero generale con manifestazione al circo massimo di roma e lo stesso claudio rossetti da ieri ha iniziato uno sciopero della fame perché ho deciso ha detto di attuare questa protesta eclatante per fare in modo che si comincia a prendere consapevolezza di quello che sta accadendo al sistema produttivo marchigiano e del resto ed italia ovvero si sta innescando una contrapposizione tra lavoratori non vaccinati e lavoratori con il green pass per tenere sotto traccia una crisi economica senza precedenti che per le piccole e medie imprese significherà svendere tutto alle multinazionali per non parlare dei risparmi dunque uno scenario veramente veramente degradato per quanto riguarda addirittura l'economia comprensoriale e non solo regionale giriamo pagina e vediamo la pagina di pesaro dove anche qui si tratta del problema del caro vita anziani e famiglie aiutatici a pagare le bollette salasso decine di segnalazioni di utenti giungono alle associazioni di tutela dei consumatori primi accordi con le società fornitrici per la rateizzazione degli importi un immediato espediente per cercare di lenire un po la situazione di disagio per molte famiglie insomma rateizzare l'importo delle bollette anche se non è la panacea che risolve tutti i problemi almeno li semplifica un pochino la delibera di arera di fine dicembre prevede infatti la dilazione del pagamento ma non pagando la fattura per poi pagare il 50 per cento dell'importo nell'unica soluzione e successivamente rateizzare 10 mesi il restante 50 per cento quindi 50 per cento subito 50 per cento rateizzato un primo accordo è stato comunque raggiunto tra le associazioni dei consumatori ed eni gas e luce per rateizzare le bollette a seconda dell'importo delle fatture il pagamento potrà essere suddiviso da 10 a 18 rate comunque occorre sempre pagarlo anche se mese per mese comune rincari da un milione anche gli enti pubblici soffrono di questa situazione pensate alla illuminazione pubblica durante la notte rischiamo di superare addirittura la cifra di un milione sono questi i timori dell'assessore nobili lunedì in consiglio si vota l'adeguamento IRPEF e sono due notizie queste per quanto riguarda le tasse il comune di pesaro dice che non le aumenterà però c'è in consiglio l'approvazione dell'addizionale IRPEF per quanto riguarda l'adeguamento degli attuali scaglioni così significa adeguamento io ancora non lo so dire però il sospetto è che quando si adegua qualcosa qualcosa cambia e non sempre cambia in peggio vedremo come cosa deciderà il comune di pesaro per quanto riguarda l'IRPEF e da stasera si balla il popolo della notte ai nastri di partenza riaprono le discoteche tra i locali del nostro territorio riaprono il Lemieux di Marotta e il Masai di Cagli da tutti i gestori una richiesta niente stop and go quindi d'orino avanti si dovrebbe continuare a lavorare insomma senza interruzioni adesso non si dovrebbe chiudere più nei locali però si entra solo con il green pass rafforzato la mascherina che può essere tolta solo quando si scende in pista per i gestori comunque l'apertura impone l'ennesima riorganizzazione degli spazi al chiuso possono far entrare persone fino al 50 per cento della capienza dei locali durante il ballo gli utenti devono mantenere una distanza interpersonale di due metri e vedremo appunto se quando si balla questa distanza verrà rispettata e intanto Sgarbi lancia carriera e lui il futuro sindaco ha detto appunto il critico d'arte riferendosi a carriera con il quale ha fondato il partito io apro al rinascimento e sull'ordinanza di chiusura annullata vi ricordate ieri abbiamo riferito che il giudice ha assolto carriera e quindi ha eliminato tutti gli effetti che si erano determinati dal mancato rispetto di una ordinanza dell'anno scorso ebbene sull'ordinanza di chiusura annullata carriera dice avevamo ragione il 25 comunque si terrà un'assemblea di questo nuovo partito io apro al rinascimento a roma e vedremo come andrà a finire anche in questo caso parliamo ora del pronto soccorso della direzione della gestione del pronto soccorso di pesaro di fano ovvero di Marche Nord dopo dopo la fine del rapporto con Stefano Loffreda che è decaduto per quanto riguarda appunto la gestione della direzione di tutto il pronto soccorso di Marche Nord ora ci sono in ballo tre candidature abbiamo la candidatura di Umberto Gnudi che ha svolto il ruolo di direttore facente funzioni per quasi due anni del pronto soccorso poi abbiamo Giancarlo Titolo che è il referente del pronto soccorso di fano dal 2018 nominato responsabile di quella struttura semplice e Romolo Mennella medico di 64 anni in servizio sempre al pronto soccorso di fano in questo caso la direzione di Marche Nord non ha ancora deciso chi sarà appunto il referente però occorre far presto perché il pronto soccorso è una di quelle strutture così delicate che devono funzionare in pieno regime insomma con una direzione chiara e decisa. Palazzo Olivieri tre anni di lavoro per il recupero del conservatorio un'imponente opera di ripualificazione grazie ai 5 milioni e mezzo del MIUR e del MUR il ministero della università e ricerca assegna appunto queste risorse 5 milioni e mezzo per il restauro di Palazzo Olivieri sede storica del conservatorio di Pesaro dal 1892. Siamo ora nella pagina della Valle Foglia vediamo che il sindaco Ucchielli rilancia la richiesta della casa della salute e invia la sua proposta alla regione Marche il sindaco saremo un punto nevralgico per sollevare gli ospedali di Pesaro, Fano e Urbino. E da Urbino nessuna commissione tra pubblico e privato e solo personale in supporto per l'emergenza. ASUR e Area Vasta 1 intervengono sul documento relativo agli ospedali di Urbino e Pergola e affermano che adotteranno un sistema già testato nel Fermano. Non è che il privato entra negli ospedali pubblici bensì si tratta del già collaudato modello sperimentato in Area Vasta numero 4. Ebbene si tratta della carenza di figure mediche sull'intero territorio nazionale in particolare in alcune discipline. In questo caso ci si avvarrà del supporto delle cooperative e delle società esterne come appunto è avvenuto nel Area Vasta 4. A questo punto passiamo al resto del Carlino. Sulla pagina di Fano si apre con una lamentela, con una protesta, anzi diciamo meglio. Cinque lavoratori di cui tre con disabilità hanno dovuto interrompere la loro mansione della differenziata di carte e cartoni. Facevano parte della cooperativa contatto per la quale l'ASET ha interrotto i rapporti. Comune e ASET lasciano a piedi la cooperativa contatto nata dalla fusione tragedico e i talenti. Dal 31 dicembre scorso cinque lavoratori di cui tre con disabilità hanno dovuto interrompere le loro mansioni per la raccolta differenziata di carta e cartone che svolgevano da tempo per conto appunto di ASET. La cooperativa si ritrova anche con due camion per la raccolta dei rifiuti che non saranno più utilizzati ma che peseranno sui bilanci. Dunque una protesta per quanto riguarda una situazione che attiene alle categorie deboli. I sindacati vanno all'assalto perché non sono stati interpellati, non sono stati adeguatamente valorizzati per la definizione del piano d'ambito da parte appunto dell'assessore al welfare. Cigelle, Cisle e Will nei giorni scorsi, hanno deciso di non partecipare ai lavori per protesta. Sulla guardia medica solo promesse. Gregorio Bucci, vice segretario del sindacato di settore, per evitare la chiusura basta un atto amministrativo. Ovvero come hanno fatto Lazio, Sicilia, Piemonte, occorre permettere ai medici di famiglia di svolgere il servizio di guardia medica. In campo sanitario, dice Bucci, l'autonomia amministrativa regionale è amplissima. Basta consentire in una situazione d'emergenza come l'attuale ai medici di famiglia di coprire gli incarichi vacanti. Non serve dunque una legge nazionale. In caso di emergenza i medici di medicina generale e i medici di base possono tranquillamente sostituire i medici di guardia medica. Aset e Marche Multiservizi scatta la mozione per escludere ogni ipotesi di fusione. A presentare questa mozione importante è il Partito Democratico, la lista civica in comune, insieme al Movimento 5 Stelle. Se votata metterebbe la parola fine all'aggregazione tra l'Aset e Marche Multiservizi. Edoardo Carboni, contrario, non mi sembra un bel segnale né per la politica né per l'azienda e quindi ancora divergenze di opinioni all'interno della maggioranza consigliare. E vediamo anche qualche notizia di Pesaro sul Corriere Adriatico. Vediamo un attimo di sistemare meglio il giornale. Vediamo come la fuga dei medici del pronto soccorso, ora altri quattro stanno per andarsene, rimangono fino a marzo perché obbligati dalle norme. Manca ancora il primario titolare dopo la fine del mandato di Ignudi e di questo abbiamo già parlato. Le Marche sono ancora arancioni e polemica. Il declassamento dura ormai da due settimane, come sempre a Quaroli. Dice decisione senza logica per la fase che viviamo e i numeri sono da giallo. Una situazione che speriamo possa migliorare almeno nei prossimi giorni. E concludiamo la nostra rassegna stampa con le notizie di sport. Oggi è sabato e si profilano interessanti gare per quanto riguarda il campionato di calcio. Nella Serie C la visse vuole convinzione, i critici si ricrederanno per il prossimo incontro con la fermana, una fermana opportunistica, mentre Fano dimentica antezza. Trillo ha firmato. Il centrocampista di 24 anni di Frosinone proviene dalla Samb e rafforzerà la compagine Granata. Era l'ultima notizia. Massimo Faghetti vi saluta, vi augura un bellissimo weekend e noi ci risentiamo lunedì prossimo alle ore 7. Intanto buona giornata a di sentirci.